Grazie 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 Massimo a Paese della tantissima Ha segnato la Roma! Ha segnato con il numero 5, Mina Bergerzen! Grazie mille, grazie mille, grazie mille! Grazie mille, grazie mille! Grazie mille, 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 grazie mille! Mamma mia, mamma mia, che cos'è? Sì, sì, sì! Sì, sì, sì! Sì, sì, sì! Sì, sì, sì! 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 Sì!